In fila, distanziati per sottoporsi al tampone antigenico rapido. La macchina organizzativa ha funzionato bene anche questa mattina, secondo giorno di screening involontario per il primo 50% degli studenti delle superiori pesaresi rientrati a scuola il 25 gennaio scorso. Dalle otto e mezza del mattino muniti del modulo di adesione si sono messi in coda classe per classe ed hanno atteso il proprio turno. Questa volta è toccato ai ragazzi dell'alberghiero Santa Marta e del campus, quindi istituto Bramante Genga, liceo Mamiani e Benelli, e ancora ad essere utilizzata per lo screening la palestra del liceo artistico Mengaroni. A fare un primo bilancio dell'operazione il sindaco Matteo Ricci che questa mattina ha fatto il tour negli istituti. Siamo molto soddisfatti perché l'affluenza è alta e grande senso di responsabilità da parte degli studenti, da parte del mondo della scuola e la dimostrazione è che serviva, serviva per rendere il rientra a scuola più sicuro ed è la dimostrazione che serve in tutta la regione perché io sono contento per i ragazzi di Pesaro che hanno questa opportunità, ma penso che sia un'opportunità che dobbiamo dare a tutti gli studenti della regione Marche, avrebbe ripetuto io credo una volta al mese. La regione Marche ha i tamponi sufficienti per farlo, ad oggi a rientro dai primi dati pare che la scuola sia sicura perché soltanto un insegnante ha risultato positivo nella prima giornata. Il secondo turno che coinvolgerà l'altro 50% degli studenti in presenza si terrà il 2 febbraio con i test in programma al campus Santa Marta e Mengaroni e il 3 febbraio al campus Cecchi e Mengaroni. Qui confluiranno gli studenti delle scuole del centro storico e quelli della nuova scuola, mentre al liceo Marconi tutti i ragazzi del campus. Nella giornata di ieri sono stati quasi 1200 gli studenti che hanno effettuato il tampone e anche in questo secondo giorno l'adesione è stata alta. Questi ragazzi sono veramente maturi e sono in grado di sapere scegliere e di poter valutare le situazioni. Credo che veramente le scuole sono un luogo sicuro e poi ci sono degli insegnanti molto responsabili che sanno addestrare e perlomeno incitare i ragazzi a comportarsi adeguatamente. Credo veramente che sia un esempio di buon vivere, di sano vivere che va ripetuto il più presto possibile. Il preside del liceo Mamiani Roberto Lisotti ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione da parte degli studenti del suo istituto. Adesso la sensazione è che ci sia un'adesione abbastanza alta, a occhio c'è il 60-70%. Quello che si nota è una digiomogeneità nelle classi, ci sono classi che hanno partecipato quasi interamente, classi un po' più limitate, forse dinamica di classe fra i ragazzi. Una fotografia sistematica che aiuta a gestire la didattica in presenza con serenità, ha detto la preside del liceo artistico Serena Perugini. Ieri su 330 ragazzi circa presenti, un 190 hanno effettuato il tampone, quindi un buon 60%, per cui siamo soddisfatti. Applichiamo i protocolli, però lo screening è un'ulteriore azione di controllo molto efficace.